Signore e signori, direttamente da Radio 24, colui che manda a fanculo giustamente il politicamente corretto, colui che manda a fanculo anche Parenzo, diamo un caloroso benvenuto ai Boscar 2023 a Giuseppe Cruciani! Voglio fare una domanda, dato che il Cerbero sono tre presentatori insieme che hanno dei caratteri eterogenei, e anche te diciamo che ha un carattere molto diverso dal tuo sodale Davide Parenzo. Ecco, hai dichiarato più volte, anzi tutte e due, che litigate molto spesso, cioè non spesso, però vi capita di litigare molto spesso, e come nel caso quando Parenzo fu chiuso dentro al campo di concentramento, non vi siete parlati per tipo un mese, no? Ecco, come fai a parlarci al lavoro? Cioè come fai a far collimare il rapporto personale incrinato con le puntate quasi quotidiane? Allora, prima cosa, se uno vuole scegliere un partner appositamente, cercando il suo posto, la cosa non riesce mai. Se tu cerchi di creare una trasmissione, che sia su Twitch, che sia sulla radio, che sia sui podcast, cercando un tuo posto, perché di solito si fa così adesso, non cerchiamo uno che la pensa diversamente da me. Operazione che non riesce mai, mai. Invece le cose devono avvenire un po' casualmente. Io mi è successo casualmente di incontrare così Davide, questo personaggio un po' strano, un mezzo nanetto di religione ebraica, di sinistra, a favore degli immigrati, a favore dei Rom, a favore... Capito? C'è una serie di cose insieme che diceva magari funziona. E effettivamente ha funzionato, però ha funzionato casualmente. Quella volta là lui, da ebreo, fu rinchiuso perché le guardie polacche si erano dimenticate una troupe dentro, che è la troupe di gara 5. Lui da ebreo è stato rinchiuso a... È stato rinchiuso a... Che cos'era? Credo che sia Auschwitz. Sì, sì, ha rituitato anche la notizia. Era un anniversario e io il giorno dopo, chiaramente l'ho preso per il culo per... Hai calcato la mano in un po'. E lui si è incazzato, giustamente, non mi ha parlato per un mese. Dunque arrivava alla radio senza parlarci, andava in onda senza parlare, neanche un minuto. Ma anche adesso avviene in realtà, dieci anni dopo, perché quella cosa là è ormai datata a dieci anni. Anche adesso è così, spesso lui arriva, non ci parliamo nemmeno un minuto durante la giornata. Ma tu metti delle pedine, io sono venuto anche da voi. Cioè, metti delle pedine a livello di tempistiche e poi all'interno di quelle piccole caselle fai scatenare le bestie. Sì, diciamo, le pedine le devi mettere per forza, perché altrimenti ti puoi trovare nel vuoto. Nel vuoto no, perché c'è sempre l'ascoltatore da fare intervenire. Però devi avere sempre il piano B, no? Devi avere un piano B pure un piano C, se vuoi un piano D. La radio è molto diversa, prima sentivo parlare di radio, podcast. Cioè, la radio è più veloce e dunque i ritmi sono necessariamente più veloci e devi cambiare, anche se noi siamo ormai un podcast. Però noi siamo una specie di ircocerbo, una specie di cerbero, perché la realtà è che è un podcast molto ascoltato, come sai, ma nello stesso tempo il podcast nasce dall'FM. Per cui, se non ci fossero i personaggi dell'FM, che sono riproducibili solo in FM, non ci sarebbe... Tu però ragioni comunque in chiave radiofonica esclusivamente. Sì, no. Adesso hai cambiato un po'? Sì, un po' ho cambiato, da anni un po' ho cambiato. Nel tipo, proprio dal punto di vista tecnico, cosa hai cambiato? Ho cambiato il fatto che me ne frego del fatto del giorno. Dal punto di vista tecnico ho cambiato, nel senso che qualche volta faccio delle cose, anzi sempre atemporali, totalmente, che potrebbero essere ascoltate anche un mese dopo. Prima ero più sul pezzo, magari. Prima ero più sul pezzo dell'attualità, io se faccio un argomento che è di attualità oggi, anche fra due giorni, non cambia niente. Però magari decido di farlo... Pesso lo si luri in poco tempo, ho visto. Sì, perché non voglio che la gente resti ancorata al podcast di quel giorno. Sono un po' legato invece agli episodi, dunque questa cosa degli episodi, cioè che potresti ascoltare anche un mese dopo, mi affascina. E invece, Giuseppe, io sono terrorizzato dai momenti morti, quando faccio Twitch, no? E ho visto che anche te ne sei un po' terrorizzato. Io non so se lo fai cosciamente o inconsciamente, però ho visto che quando c'è le telefonate, quando vedi che c'è un ascoltatore che arranca un po', fa... Io mi incazzo con i miei assistenti quando ci sono le telefonate, perché io mi incazzo come una besta solo per due cose. Mi vanno dai matti la pigrizia e la superficialità. Io sono un maniaco delle cose che faccio e voglio che tutto funzioni perfettamente. Siccome non funziona mai tutto perfettamente, allora mi incazzo quasi sempre. Io mi incazzo perché gli ascoltatori sono il nostro core business e gli ascoltatori devono essere cercati, curati, messi quelli giusti. Poi c'è anche la casualità, la straordinaria cosa della casualità. Sì, però non puoi puntare su quella. Cioè quella avviene durante la costanza. I personaggi migliori però, devo dirti la verità, sono nati casualmente. Appunto. I personaggi migliori, le vecchie che chiamano, le vecchie che chiamano sono straordinarie. Deve esserci la struttura, poi c'è la bomba e quella al massimo si amplifica. E quella si amplifica. Però io non voglio tempi morti. Quello che lui dice, tempi morti sono due ascoltatori di seguito che vogliono ragionare, mi fanno impazzire. Quelli che vogliono fare un ragionamento, dicono, vai a porta a porta e non rompere il cazzo. Senti di porta a porta e non rompere il cazzo. Non è che puoi fingere. Io odio la finzione. Per esempio, molti personaggi del web, di TikTok, di altri, sono tutte finzioni totali. Cioè, non sai mai quello che è la verità. Cioè, la forza di un programma, quelli che resistono, tra cui, devo dire, il sottoscritto, insieme a tutti quelli che fanno la radio con me, la forza di un programma è la verità. Cioè, è il fatto di sembrare e di essere poi vero, cioè non finto, di non fingere mai. Anche nelle brutture, ovviamente. Anche nelle brutture, dunque, anche nei momenti, come lui diceva, in cui sei stanco, perché cazzo ne so, perché quel giorno là, perché non trombi da tre giorni, oppure perché... E come trovi la forza per avere legge? Ma no, ma la forza in realtà non è che la trovi. La trovi un po' per mestiere, perché la devi trovare, perché poi ci sono... Io sono convinto che uno può resistere solo se ha delle cose da dire, a qualsiasi livello, no? Cioè, non si va in onda se uno non ha un cazzo da dire. E io, per fortuna, ho sempre delle cose da dire. Magari un giorno ne ho una, un altro giorno ne ho quattro di cose da dire. Altre volte addirittura dieci e dunque non riesco... Cioè, dieci cose da dire che sento come mie. Che ne so, la polemica sul Sarono del Libro, la polemica sulla Murgia, una polemica su questo, su quest'altro. Allora, se tu hai delle cose da dire divisive, belle, allora va bene. Cioè, altre volte magari delle cose della vita ti portano ad essere un po' più moscio e cerchi di tirarti su con qualche ascoltatore. Poi lo dici anche, no? Poi, sentite, stasera ero scazzatissimo, per esempio. Non so perché. Stasera ero scazzatissimo. No, ero scazzato dunque, tagliavo corto, non trovavo la soluzione giusta alle mie... Poi è arrivata un'ascoltatrice e mi ha fatto impazzire. È così, cioè... Ma secondo te gli ascoltatori le percepiscono queste cose, questi cambiamenti? Sì, ma chi lo percepisce chi... Cioè, il coglione che dice questa sera sei stato cafone. Ma non sono cafone, è semplicemente che sono così questa sera come uno può essere incazzato nella vita, torna a casa... No, c'è la stessa cosa. Cioè, come si fa ad andare avanti per così tanti anni in un mezzo che comunque è un po' limitato, come quello della radio? Sì. Perché comunque la zanzara, secondo me, in questo è un'eccezione. Forse anche un po' altri programmi, però è molto raro trovare un programma con un'identità così forte e che non sia semplicemente uno speaker che fa da intermezzo tra una pubblicità ed una canzone. Cioè, come fai a ricercare costantemente queste ispirazioni ma anche la voglia proprio di farlo in un mezzo che, ripeto, secondo me, dal mio umile punto di vista, è affascinante perché comunque è una sfida, anche a livello di tempo, come dicevi, rimanere lì. Però dopo un po' magari... No, io la radio la sento tanto, ma sento 4-5 cose. Sento molto chiaramente i podcast o qualcosa su Twitch. Io cerco ogni tanto... Nella vita si deve anche prendere spunto da qualcos'altro, no? Si deve prendere spunto da personalità, dal modo di affrontare le cose da parte di altri, da... Qualche volta trovo che delle persone siano brave a fare delle domande che io, per esempio, magari non riesco a fare o perché trovano delle soluzioni diverse. Bisogna sempre guardare gli altri e mai essere... E sempre essere un po' umili da questo punto di vista. Non... L'arroganza di alcuni conduttori, i miei colleghi, non la capisco, di alcuni programmi. Ogni riferimento è casuale. C'è un senso che si sentono... Che si sentono, capito, arrivati perché vedono... Cioè abbiamo un milione ogni quarto d'ora che poi l'ascolto radiofonico non... Sì, col telefono si fa... E' fatto male. A me... Cioè vale molto di più uno che, come voi, fa magari 20.000, 30.000, 40.000... Quello che è piuttosto che le rilevazioni radiofoniche non... Eppure la pubblicità, purtroppo, è schiava... E' schiava di altro, capito? Cioè se io fossi un investitore, punterei su tante altre cose, piuttosto che sulla radio tradizionale. Adesso lo dico quasi contro i miei interessi. Ma se io fossi un investitore, punterei un target, vedrei un target e non sarei... Non lascerei la pubblicità così, andare a spalmarsi sul mezzo radiofonico. Sì, perché poi spesso il pubblico magari sta in macchina, parte della pubblicità, cambia, ovviamente. Sì, sì. Qualcosa sta cambiando comunque, Davide? Sì, sì, ma non tantissimo. Soprattutto sulla nostra apertaforma. Non tantissimo perché c'è pigrizi, eccetera. Comunque, l'importante è non essere... Non pensare di essere arrivati. Anche le persone completamente diverse da te, che fanno cose totalmente diverse, possono darti qualcosa. Possono darti qualcosa a livello di... Non solo di ritmo, ma proprio a livello di freschezza, di testa. Io un po' gli anni... Gli anni comunque pesano, eh. Sì, ma sì. Tipo il cambiamento più grande che hai sentito? Cambiamento climatico, no, ti prego. Il cambiamento climatico non lo posso vedere. Io ho gente che parla di cambiamento climatico, lo metto male. No, no, il cambiamento più grande. Ma lo so, lo so. Non so così rincoglionissimo. Magari è bello il cambiamento. Il cambiamento climatico non lo posso vedere, però il cambiamento mio sì, l'ho visto. L'ho visto così, nella stanchezza la sera. Prima ero molto più dinamico. Anche ogni tanto mi perdo in diretta su qualche cosa. Invece prima ero più multitasking. Beh, non ti nascondo, io ho fatto un paio di anni, dal 2016 al 2018, non è stata una cosa devastante. Però insomma, sono stato da uno psicoterapeuta per un paio d'anni. Non era una cosa di quelle clamorose, però sentivo il bisogno di raccontare delle cose a qualcuno. Ho trovato una persona, non so quanto mi abbia fatto, però ci sono stato un paio d'anni. Adesso non l'ho mai detta. È bello perché da fuori sembra che tu sia incrollabile, invece... No, ma io, voglio dire, non è che è stata una cosa che non... Però non mi sentivo più in grado di dare quello che davo e era un po'... Ti sentivi finito? No, finito no, però pensavo che potesse essere... Che la cosa fosse finita, che non avere più stimoli, no? Di non poter più dare quello che davo prima. Ma invece poi, passato due anni, in cui una volta a settimana andavo, non tantissimo, una volta a settimana, due ore, andavo, parlavo, raccontavo le cose mie dell'infanzia, i miei genitori... Poi, sai, queste cose, no? Ti dicono, allora, da dove vengono queste cose? Cominciamo, i miei genitori, che rapporti... Magari è stato anche un modo per forzarti a dedicare del tempo ad altro. Non al lavoro, cioè all'introspezione, esatto. Sì, sì, ma infatti lo ricordo con... Poi dopo due anni ho detto, vabbè, basta, perché secondo me ho detto tutto. Ho detto tutto. Invece abbiamo parlato di difficoltà e volevo tornare sulla radio, perché ho sempre avuto una curiosità. In tutti questi anni c'è un personaggio che ti ha messo effettivamente in difficoltà nel gioco della zanzara? Ma tantissimi. Eh, chi? Mauro, no? Mauro è stato un grande... Avevo perso i rapporti finché non si è ammalato, perché... No, in difficoltà, in difficoltà no. In difficoltà ogni giorno qualcuno mi mette in difficoltà. Cioè, per cui, sì, quotidianamente. Ma guarda che essere messo in difficoltà da qualcuno è un bene, io lo trovo un bene. Chi pensa di essere più forte in radio perché ha un argomento... Ogni tanto qualcuno mi dà, capito, mi dà una stoccata. Ma semplicemente ti metti in condizione di, perché volendo, tu potresti essere il Deus Ex Machina assoluto. Ma sì, posso anche. Mi mette in difficoltà, giù. Ma sì, ma no. Invece lo fai quando hai un effetto comico. Sai, io mi sono abituato negli anni che la libertà, no. Cioè, il concetto di libertà è un concetto bizzarro. Voi siete chiaramente, fate un mestiere in cui la libertà è fondamentale. Anche voi avete dei vincoli, perché come sapete su Twitch ci sono dei vincoli. Magari loro non lo sanno nemmeno, ma sanno benissimo le parole che si possono dire e che non si possono dire. Ma in realtà la libertà totale che c'è su internet, per esempio, su molti podcast web, su radio web, o molti youtuber, eccetera, è una libertà fittizia. Quando sei troppo libero, io sento bestemmia, sento qualsiasi cosa. La libertà totale è una chimera. I vincoli servono, perché li puoi aggirare. È bello inventarsi delle cose sapendo i vincoli che hai. Le soluzioni per eludere o dire la stessa cosa in modo diverso. Assolutamente. Nel momento in cui tu vedi quei paletti, sai che devi andare in quella direzione lì. Ma infatti il libertinismo, anche nel sesso, per esempio, il libertinismo non esisterebbe senza... Ma infatti sono un grande fan del discorso legato anche a ciò che di male e di bene ha fatto la religione cattolica in Italia. Dal punto di vista sessuale, ti creava quel senso di peccato. Certo. Sto trasgredendo. Assolutamente. In un mondo ipotetico, dopistico, tutto è libero, nulla ha lo stesso sapore. Ma no, hai perfettamente ragione e soprattutto in un mondo totalmente libertino. Magari noi immaginiamo e ci piacerebbe pure un mondo, abbiamo, io e lui sicuramente, una vita un po' libertina da questo punto di vista. Questo mondo libertino, se fosse un patrimonio comune tuo, di tutti, eccetera, sarebbe un delirio. Cioè sarebbero malattie, conflitti, eccetera. Ma sarebbe meno divertente, baralmente. Primo, e il mondo di oggi si basa su alcune certezze. Le certezze sono la famiglia, i legami, il matrimonio, diciamo il matrimonio, insomma l'esistenza di qualcosa di relazioni stabili. E soprattutto di monogamia, diciamo la verità. Perché il mondo è in gran parte monogamo? Perché crea una stabilità di vita. No, ma la società non si reggerebbe senza questa roba. C'è un momento in cui ti ha dato fastidio che il pubblico sapesse così tanto di te? Ma zero, mi ha dato fastidio a chi è intorno a me. In un mondo della comunicazione, che è quello tradizionale, erano un po' delle rotture, capito? Ma io non l'ho mai fatto apposta, anche la storia dei vegani, io non l'ho mai fatto nulla apposta. Sono tutte cose che sono avvenute casualmente, devo dire la verità. Non è che mi sono prefisso di fare una cosa. Adesso la cosa che faccio domani è una roba che chiaramente so già all'effetto, ma è una cosa che ho voluto fare perché è figlia di una polemica, capito? Tu semplicemente dici le tue idee e poi quando vedi che c'è un contrasto forte, una risposta forte, le cavalchi, quindi va salame, cose, certo. Sì, a quel punto le cavalco e alcune cose sono andate. Però l'iniziale repulsione, l'iniziale risposta è autentica. Sì, non ho mai previsto delle cose che potevano accadere. E invece il momento più alto della tua carriera qual è stato? Spero quello prossimo. Sempre. No, spero quello prossimo. Il momento più alto non c'è, non esiste il momento più alto. Domanda del cazzo per poi ogni tanto.